E' necessaria una risposta internazionale chiara e forte che comprenda anche misure deterrenti per rispondere all'attacco chimico in Siria. Lo chiede il Parlamento europeo in una risoluzione secondo cui diverse fonti sembrano indicare le responsabilità del regime siriano. Il presidente della Commissione esteri sostiene la proposta russa di porre l'arsenale chimico sotto controllo internazionale. Il regime siriano lo ha accettato perché teme un attacco militare e se non lo faranno in tempi adeguati subiranno un attacco militare più che legittimo. Ma secondo questo rappresentante dell'opposizione siriana a Bruxelles la risoluzione del Parlamento non porterà alcun risultato. George Ashán ha espresso scetticismo anche sui negoziati internazionali. Francamente siamo profondamente indignati, ha detto. Dall'inizio della crisi il regime siriano e la Russia camminano di pari passo davanti a tutti. Ed è triste vedere che la guerra che il regime sta conducendo contro il suo popolo si è trasformata in un negoziato sul controllo delle armi chimiche. Il massacro dei centinaia di civili il 21 agosto scorso ha spinto la comunità internazionale a minacciare un attacco militare, ma le pressioni russe hanno costretto americani ed europei ad optare per un debole compromesso sulle armi chimiche.